bella ragazzi sfida settimana 8 moneta xp e atterriamo alla stazione metodologica così ci prendiamo l'elicottero e cominciamo il giro prima moneta ci troviamo dietro le montagne di gattogrill sulla spiaggia dove c'è praticamente il laghetto dietro le montagne ovvero qui zoomata questa è la posizione esatta la moneta evidente ragazzi si trova sopra questa vasca qui e passiamo alla seconda moneta secondo momento ci troviamo allo spascia carrozze quindi al sud-est della stark questa è la posizione esatta zoomata sarebbe quel piccolo sfascia carrozze che si trova a sud-est della stark andiamo a distruggere il bidone e ci esce la moneta passiamo alla terza terza momento siamo a nord ovest del lago della stark questa è la posizione esatta se zoomiamo siamo sulla collina praticamente la moneta evidente e scoperta quindi facile da trovare passiamo alla quarta quarta moneta siamo alla zona nord ovest della stark questo è il punto esatto zoomiamo siamo praticamente quasi all' incrociere dei fiumi sulla parte sinistra anche questa moneta è abbastanza evidente x pri viola e passiamo alla quinta quinta moneta siamo es dell'autorità la moneta esattamente dove io ho pingato basta pingare questo alberello affianco questo edificio che sarebbe il benzinaio la moneta si troverà sopra l'albero sarà un x pri viola quindi magari scendete con un po' di matt giusto per salire o lo fate direttamente qua e passiamo alla sesta sesta moneta ragazzi se avete finito la partita e continuate con la seconda partita scendete dove vi ho pingato per prendere l'elicottero qui andiamo a vedere la sesta moneta ci troviamo a ovest di pantano dove vi ho pingato questa è la casa ok arrivati qui entriamo nella casa sentite già rumore entriamo spacchiamo l'armadio e ci riesce alla moneta passiamo alla settima settima moneta ci troviamo al ponte praticamente a nord della fortiglia è abbastanza evidente come vedete la moneta si trova proprio sotto il ponte questa è la posizione passiamo alla prossima oltre la moneta ragazzi c'è una sembra pantano questa è la posizione esatta la moneta è abbastanza evidente la trovate qui sopra e passiamo alla moneta da una moneta ci troviamo sulla spiaggia praticamente tra pantano e bughiere brumose questa è la posizione la zoomiamo così si vede meglio la posizione esatta non bisogna fare altro che spaccare questa valigia e riesce di xp blu e andiamo a vedere la decima ultima moneta ragazzi decima ultima moneta ci troviamo a pantera quindi il monumento di pantera la moneta si trova esattamente sulla corda della pantera ok quindi vi faccio rivedere la posizione e anche con settimana abbiamo finito ragazzi spero che video come servizio statuti e bella la prossima